Che cos'è questo libro nascosto di Brow Stars? Che cosa si dice là dietro? Perché ci dice di non toccare e se clicchiamo compare questa faccia che fa molta paura? Lo scopriamo nel video di oggi, quindi mi raccomando lascia mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Ti ricordo che qua sotto trovi tre link importanti per seguirmi a 360 gradi, i tre link sono Twitch, TikTok e Instagram, vami a seguire. Ultima ma non per importanza, qua in alto c'è una playlist ufficiale di Brow Stars che si chiama Brow Stars Sita, ti consiglio la visione per recuperare tutti gli episodi che ho caricato di Brow Stars, ce ne sono veramente tanti in quattro anni, quindi sicuramente trovi qualcosa che ti può essere utile. Nel negozio sono arrivate delle offerte speciali, è arrivato un regalo del negozio gratis, so che c'è in paglio un botto di roba, c'è un sacco di gente che vuole sbloccare le casse rip, di là di su di giù, io ho fatto anche un video sulle casse rip, quindi non è che mi voglio sponsorizzare più di tanto, ma appunto ho fatto anche un gran contenuto secondo me sulle casse rip che può esservi chiaramente utile. Che cos'è questo tasto non entrare? Perché quando clicco mi capita perennemente questa immagine che fa veramente molta paura devo dire la verità e io sto provando a screenshotare che però non riesco a fare lo screen ragazzi perché in realtà ogni tanto ti capita quella rossa, ogni tanto ti capita questa qua che cambia e non si capisce bene. Ma andando ad analizzare poi l'immagine si scopre di che brawler si sta parlando, si scopre chiaramente anche andando a visualizzare nei brawler quello che ha la faccia più simile che chiaramente si sta parlando di Mortis. Che cosa può celarsi dietro questo mistero? Perché ci dice non entrare, c'è questa immaginina diciamo con il libro, lo star drop, un segnalibro dove si può andare a far scorrere questa emoticon tutta viola, però perennemente c'è Mortis, ok? Tutto arrabbiato, che non sia un'evoluzione di Mortis arrabbiato, in realtà tanti non lo sanno e stanno cercando semplicemente di speculare, ma non è il nostro caso, a noi interessa in realtà fare qualche partita nella nuova modalità corsa dei carrelli. Prima però volevo fare brawler volo, giusto per il meme, frate, farmi due game in brawler volo, dovrebbe essere tipo una palla volo un po' particolare, che secondo me ci sta per spezzettare, per cambiare un po' il mood, che ormai, devo dire, ultimamente è sempre molto molto simile. Abbiamo un griff, abbiamo uno squeak, abbiamo uno spike in appunto diciamo come avversari e chiaramente il nostro obiettivo è che dobbiamo prendere la palla al volo, cioè se non la prendi al volo, frate, è andata. Ok, adesso tocca loro prenderla al volo e così via, cioè il gioco è letteralmente questo, so che potrebbe essere molto meglio e sono totalmente consapevole e niente, quella lì chiaramente la deve prendere lui, io mi occupo magari di altro. Vedi, in questo caso ad esempio io ho provato a far fuori un po' lui, ho provato a far fuori l'altro, loro si sono distratti e noi abbiamo segnato, quindi il gioco è banalmente questo, l'obiettivo è far distrarre quelli che sono gli avversari e appunto dargli fastidio a loro. Chiaramente ragazzi la palla la devono prendere loro e chiaramente è difficile che la prendano, l'ha presa, non so minimamente come abbia fatto ma ragazzi l'ha presa. Posso prenderla anche io ma vabbè se vai te forse meglio, ok scusatemi raga, devo andare a distruggere lui. Ok si poteva fare, bellissimo il doppio stun, c'è solo un problema, è che d'orca miseria sono andato di troppo su, state indietro, state indietro mannaggina la pupazza. Ok easy, ok easy, ok easy, è impossibile che ce la facciano. Se ce la fai impazzisco, vabbè ma secondo me è fatta apposta, ci vogliono far perdere, ci vogliono fare un complotto, un complotto, un complotto, aspettate. Bene, attenzione allo squichettone, fa un po' male lo squichettone però noi ce ne fuggiamo via così. Per il meme è regolare, ci ho provato, oddio, 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 forse ce la facevamo, porca miseria. Di pochissimo, se non ce l'abbiamo fatta veramente di poco, brava Penny, prendi subito. Oh, io sto provando a far fuori tutti e tre, ma il discorso è che loro non è che stanno a guardare, cioè si stanno difendendo, chiaramente. Non ci ho provato, oddio mio, 20 di vita e 1700, e abbiamo preso gol. Ci arriva a due, ragazzi vince e quindi di conseguenza bravi l'oro che se la sono portata a casa, ecco. Tra le varie ipotesi che stanno circolando su quello che è il contenuto di questo libro, su quello che può essere effettivamente questo oggetto, beh ragazzi io devo dire ho fatto uno più uno e chiaramente il brawler del quale stiamo parlando secondo me è Mortis, non è chiaramente Edgar come ho sentito dire in giro da alcuni creator, secondo me è Mortis e visto che molti mi hanno detto Vapor e chiaramente il nuovo overdrive di Mortis sono andato a verificare, anche perché mi sembrava, e io l'overdrive di Mortis ce l'ho già. Ecco che quindi le, diciamo, possibilità che sia qualcosa di strano sono veramente basse, chiaramente secondo me siamo di fronte, se ve lo devo proprio dire, a una nuova skin e quindi non un overdrive, ma in realtà ragazzi secondo me questa è proprio una nuova skin che verrà inserita di Mortis, chiaramente, verrà inserita per Halloween e dovrebbe uscire tra poco, quindi a proposito, se siete curiosi di sapere che skin è, chiaramente usciranno poi altri contenuti, è buona, nel senso... Ok, benissimo, oddio, la riesce palesamente a prendere perché vabbè, c'ha fortuna. Oddio. In che senso, frate? In che senso ce l'abbiamo fatta? Oddio, stecca, 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 no, 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 una pari. Ok, potrebbe essere più complicata del previsto. Bella comunque quest'idea di marketing per questa nuova skin, io l'ho apprezzata parecchio, Sono contento che Supercell l'abbia inserita E chiaramente Vedremo, cioè secondo me si tratta di una skin Che farà molto successo Anche perché voglio dire Che senso avrebbe mettere una skin Banale Cioè che abbiamo già visto mille volte Secondo me zero Quindi ovviamente potrebbe essere Una skin di quelle importanti di Mortis Un Mortis predone Un Mortis indemoniato Insomma mi sono fatto parecchie idee Quella corretta non la sa nessuno La sapremo quando chiaramente ci sarà Poi nel gioco Questa skin che ripeto Secondo me esce per Halloween Cioè poi vedi è proprio arrabbiato Perché poi te schiacci E ti viene proprio fuori il come hai usato No no basta vattene subito Non ne uscirà niente di buono Cioè tutte queste immagini qua Il tuo account è stato maledetto Ma ovviamente Non è che sono prank Anzi assolutamente no Però si trattano Secondo me Dobbiamo Devo dirvi proprio la verità Papale papale Di skin Di rumor Su una skin Che dovrà arrivare Insomma Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto Like iscrizione Attivazione della campanella E commento Fatemi sapere se andrete A comprare questa skin di Mortis Ripeto Dovrebbe essere Secondo me una skin Parecchio rara Ne vedremo delle belle Insomma E fatemi sapere Cliccando alcuno di questi due video Che sono uno più bello dell'altro Allora Allora Grazie.